Catanzaro e Palermo tornano a sfidarsi nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, ampio turnover da una parte e dall'altra, con Filippi che sceglie Edoardo Soleri per l'attacco. Il primo squille De Rosa Nero con Almici che prova al quarto minuto dalla distanza, non è perfetta la risposta di Nocchi. Al nono minuto Vasquez si inventa, Curiale stacca, pallone che si spegne sul fondo. Primo quarto d'ora ancora Catanzaro e ancora Curiale che purga Massolo in fuorigioco. Al ventesimo Risolo prova a sorprendere Massolo da fuori e bravo il numero 12 Rosa Nero a mettere in calcio d'angolo. 36 sul cronometro, cross di Valente, confusione dentro la red di rigore del Catanzaro, sponda di Crivello destra, giro di Floriano di prima intenzione, pallone a lato. Pochi istanti dopo è ancora Nicola Valente a imprezziare la manovra offensiva del Paermo, serve Soleri che calcia risponde presente in occhi. La seconda frazione di gioco riparte con il possesso palla del Catanzaro che con Ortisi dalla lunga distanza prova, impensierire così, Samuele Massolo costretto agli straordinari. 68 sul cronometro, episodio clou del match con Curiale che beffa, Massolo, 1 a 0 Catanzaro, sblocca il match, la compagine calabrese non esulta, ma che gol dell'ex Palermo che ipoteca così l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Al 72 Soleri dopo una percussione scarica per Andrea Silipo che dà la sua mattonella, calcia con il sinistro, a giro, pallone che sorbola l'incrocio dei pali. All'82 si infrangono le spranzi del Palermo con questa conclusione di Matteo Brunoni che della distanza calcia alto sopra la traversa. Triplice fischio del direttore di gara, il Catanzaro di Calabro accede ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C. I rosanero salutano, oltre che i propri tifosi, anche la nota competizione.